Ciao, sono Giuseppe ed in questa parte dell'evento parleremo del tuo percorso di studi, ma soprattutto di come impostarlo al meglio. I consigli che ti sto per dare non sono soltanto validi per i test di ammissione dell'area medico-sanitaria, ma anche per impostare un buon metodo di studio a livello universitario. Mi spiego meglio. Sicuramente ci concentreremo sulla preparazione al test, quindi quello sarà il nostro focus, ovvero superare il test di ammissione per medicina, professioni sanitaria, veterinaria, eccetera. Ma la cosa importante per me è aiutarti a creare una forma mentis che ti possa supportare durante tutto il tuo percorso di studi. Infatti puoi assimilare la preparazione al test alla preparazione di un esame universitario, ovvero hai un programma da studiare ben consistente, soprattutto chiarito fin dall'inizio, quindi molto chiaro e soprattutto molto molto largo. Hai una scadenza fissa da rispettare e a questo punto devi gestire il tempo, devi gestire le tue energie, devi gestire al meglio le tue risorse. Il tempo è una risorsa molto preziosa, infatti andremo nel dettaglio e capiremo anche come gestire il tempo a livello macroscopico, quindi la gestione del tempo a lungo termine, ma cercheremo anche di capire come gestire il tempo, come mi piace definirlo, il tempo microscopico, ovvero la singola giornata di studio. Un'ultima premessa è relativa proprio all'entità di questi consigli, di queste dritte. Ovviamente non sono regole che sono scese dal cielo magicamente e te le sto per leggere, te le sto per enunciare. Sono ovviamente consigli dettati dall'esperienza e quindi in quanto tali devono essere supportati da una buona dose di esempi che non mancherò di farti. Ancora un'ultima precisazione. Per sfruttare al massimo il tempo che dedichi all'apprendimento è assolutamente di vitale importanza che tu comprenda la differenza fra outcome e output. Entrambi questi termini infatti possono essere tradotti come risultato, però il loro significato profondo è differente, è molto differente. Infatti output è quello che produci, mentre l'outcome è l'effetto prodotto da ciò che hai fatto. Ma in termini di studio, molto più semplicisticamente, cosa vuol dire? L'output è, per esempio, può essere il numero di argomenti che studi ogni giorno, il numero di pagine lette, cioè tutte quelle cose che puoi depennare dalla lista di cose da fare, mentre l'outcome è effettivamente ciò che hai appreso. Quindi la tua conoscenza profonda dell'argomento e, perché no, anche la tua competenza nel saperlo applicare in un quiz o in una simulazione. Parleremo anche di questo. Diciamo che la situazione ideale sarebbe far viaggiare paralleli sia outcome che output, ovvero tutto ciò che studi riesci a comprendere in maniera efficace. Però questo sappiamo benissimo che è una situazione utopica, non succederà quasi mai, cioè nel senso ci sono dei giorni particolarmente intensi, sia per quanto riguarda l'aspetto personale, semplicemente potresti non essere proprio nel miglior mood per studiare, oppure ci possono essere degli argomenti che ti rallentano parecchio, che quindi minimizzano l'output. Però quello che importa, quello che ci importa, è massimizzare l'outcome, ovvero l'apprendimento. E infatti questa è una dritta, questo è un concetto che ti accompagnerà sempre, mi azzardo a dire, in tutta la vita, al di là del tuo percorso di studi. E ora parliamo proprio della programmazione. Perché è così importante schedulare il proprio tempo a lungo termine, per due motivi principali. Il primo è non perdere mai la visione di insieme, il quadro generale, la big picture, come direbbero i nostri amici anglofoni, e soprattutto, e questa è la parte più importante, personalizzare il percorso in base alle proprie esigenze. Quindi quello che ti consiglio è di prendere carta e penna, un foglio google se necessario, un taccuino, un'agenda, qualsiasi cosa, è di scrivere, mettere per iscritto, nero su bianco, tutto ciò che vuoi fare da ora fino ai prossimi 2, 5, 6, 12, 15 mesi. Deve essere scritto, deve essere chiaro. Puoi creare un percorso settimanale in cui ti poni ovviamente delle aspettative, degli obiettivi realistici, oppure, in alternativa, come me, puoi creare un, diciamo, un calendario di tipo agenda in cui ad ogni giorno sono associati degli argomenti da studiare. Avrai capito, avrai inteso che in questa fase di macro programmazione, quindi la programmazione a lungo termine, è importantissimo fare un rapido check personale. Quali sono le mie conoscenze pregresse? Provengo da un, da un liceo scientifico, da un liceo artistico, da un liceo classico, da un istituto tecnico? Su quali materie sono più ferrato? Una volta che avrai capito da dove partire, potrai effettivamente costruire la tua agenda, costruire il tuo programma settimanale, appunto, giornaliero. Qualche altra dritta. La domanda fatidica, ma da quando cominciare a studiare? La risposta per me è semplicissima. Oggi. Devi cominciare a studiare oggi. Perché, a prescindere dal tuo bagaglio di partenza, potrebbe volerci un maggior quantitativo di tempo ed impegno, o un minore quantitativo di tempo ed impegno. Però la cosa importante è cominciare a sfruttare al meglio il proprio tempo da adesso. In maniera tale da non ritrovarsi a studiare alla cieca, o comunque in maniera frettolosa. Anche perché, come ti ho anticipato prima, possono esserci dei giorni meno produttivi, o comunque dei giorni più difficili a livello di studio. Ed è proprio su questo punto che mi soffermerei, ovvero in che ordine studiare le diverse materie. Il mio consiglio è quello di partire dai propri tasti dolenti, ovvero dalle materie o degli argomenti su cui ci si sente più in difficoltà. In particolare ti consiglio di scaricare proprio il bando ministeriale e utilizzare quello come riferimento, quello come guida. Quindi lo andrai a leggere in un momento di tranquillità e andrai a sottolineare, evidenziare quelli che sono gli argomenti per te più difficili, più ostici, o semplicemente quelli in cui non ti sei mai cimentato. Questo perché, dando priorità temporale agli argomenti in cui ti senti più in difficoltà, andrai a combattere la preoccupazione e la fisiologica ansia che si farà sempre più presente man mano che ci si avvicina alla data del test. Infatti sarà proprio quella fisiologica ansia a impedirti di concentrarti nei mesi che precedono il test di ammissione. Quindi dai priorità ai tuoi tasti dolenti. Questo deve essere, diciamo, il principio guida della tua programmazione a lungo termine. Un altro punto fondamentale è quello di non trascurare il riposo. Ti consiglio di inserire all'interno della tua programmazione settimanale almeno un giorno di totale relax. Questo servirà a ricaricarti, quindi a darti forze ed energia e anche, perché no, voglia di studiare nei sei giorni successivi. Inoltre ti consiglio anche di inserire quelli che io chiamo giorni di tolleranza, i giorni di tolleranza sono dei giorni extra che puoi eliminare dal calendario di studio nel caso in cui ci siano degli imprevisti o semplicemente hai mal di testa oppure hai poca voglia di studiare perché appunto ti rendi conto che saresti poco produttivo e quindi andresti ad azzerare l'outcome. Come riferimento di solito io programmo per il mio studio un giorno di tolleranza per ogni mese. Puoi regolarti anche tu così e vedrai che non ti troverai mai in difetto, anzi talvolta se non utilizzi i tuoi giorni di tolleranza puoi anche portarti avanti con lo studio e questa è una cosa che ci piace parecchio. Prima di procedere facciamo un rapido recap di quello che ci siamo detti. Quindi fondamentale, scarica il bando ministeriale, ovviamente quello dell'anno scorso perché il bando per i test del 2022 deve essere ancora pubblicato. Scarichi il bando dell'anno scorso e fai una lettura attenta di tutti i punti per materia. Ovviamente metti in evidenza quelli che sono i tuoi punti critici e dai a loro priorità. Però questo non vuol dire che dovrai studiare o studiare bene solo quei punti. Dovrai organizzare un percorso di studi propedeutico che tenga conto di tutte le conoscenze richieste per superare il test d'ammissione. Quindi andrai a inserire all'interno di ogni giorno, all'interno di ogni settimana, all'interno del tuo calendario a lungo termine i vari argomenti che intendi studiare. Ovviamente tenendo conto anche del tuo riposo, quindi del tuo giorno di relax e dei mitici giorni di tolleranza che possono essere anche tre al mese ad esempio e quindi andranno a coprire quelle volte, quei giorni in cui ti sentirai poco produttivo o comunque mancherà la voglia o semplicemente ci saranno degli imprevisti che ti impediranno di studiare al meglio. Un'altra domanda che ci viene posta spesso è relativa al grado di approfondimento delle conoscenze all'interno dello studio, all'interno del tuo percorso. Una persona non approfondisce tanto per rispondere bene a quelle poche domande difficili che si sono succedute negli anni, per esempio in biologia, in chimica, quelle poche domande supercriptiche, ma si approfondisce di più un determinato argomento perché si vuole avere una conoscenza a tutto tondo di quel dato argomento o all'interno della materia, in modo tale anche da fare dei collegamenti fra le diverse materie e quindi darti la possibilità di rispondere a tutti i quiz di quella materia. Quindi, ricapitolando, si approfondisce non per far fronte a quei pochi quiz difficili, ma si approfondisce per rispondere a tutti i quiz e farlo sempre bene. Questa è la regola generale, ma il mio consiglio è quello di approfondire il più che puoi. Tutto il tempo dedicato all'apprendimento e all'approfondimento non è assolutamente buttato, non andrà perso. Considera e ricorda sempre il tuo obiettivo. Stai studiando per entrare all'interno della facoltà di medicina o di professioni sanitarie o di veterinaria o comunque una qualsiasi altra facoltà dell'ambito medico sanitario. Quindi tutto ciò che imparerai ora ti permetterà di avere più prontezza, più consapevolezza all'interno del tuo percorso di studi e quindi semplicemente essere uno studente più sereno e più focalizzato. Passiamo ora ad analizzare i singoli giorni di studio. Quindi hai compilato il tuo calendario, la tua schedule settimanale o di tipo agenda, quindi giornaliera, e adesso hai il materiale di studio. Come procedere? Io ti consiglio di suddividere ogni argomento in micro argomenti e per ogni micro argomento devi associare dei quiz. Una volta fatti i quiz poi puoi prenderti una piccola pausa di 5-10 minuti. Facciamo un esempio. Mettiamo caso che tu debba studiare la glicolisi aerobia. Puoi suddividere questo argomento in tre micro argomenti. Il primo è la glicolisi propriamente detta, il secondo ad esempio la decarboossilazione ossidativa ed il ciclo di Krebs e il terzo micro argomento può essere la fosforillazione ossidativa. Al termine di ogni micro argomento associa subito dei quiz per cementificare le tue conoscenze e ovviamente prendere consapevolezza di quelle che possono essere le domande che riguardano quell'argomento, la loro forma. Subito dopo i quiz puoi prenderti una piccola pausa di 5-10 minuti e poi ripartire subito con il prossimo micro argomento. Ma come studiare ovviamente i singoli micro argomenti? Puoi immaginare il momento di studio come composto di quattro fasi. La prima è mirata alla comprensione generale, quindi anche una lettura di tutto il micro argomento ti permette di avere una visione d'insieme, mentre la seconda fase è quella relativa ai dettagli, quindi andrai ad integrare tutti i nomi particolari, tutti i dettagli di un singolo discorso che lo completano e per poi passare alla terza fase, quella è importante ovviamente, la memorizzazione. Questa fase è efficace e diciamo è facilitata dalla comprensione dell'argomento. memorizzare senza capire ovviamente è un diciamo è uno sforzo infruttuoso che ti costringerà a ritornare indietro sugli argomenti già studiati per per ripeterli ovviamente e invece noi vogliamo massimizzare al 100% l'outcome e quindi il 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 prodotto vero del nostro studio. Il quarto momento, quello di cui parlavamo poco fa, è proprio l'approfondimento. In questo momento andrai a cercare delle peculiarità che vanno a integrare l'argomento che hai studiato e quindi ti permettono di avere una conoscenza, come diceva un poco fa, a tutto tondo, a 360 gradi e perché no che magari colleghi quello che stai studiando anche con altre materie, che quindi colleghi ad esempio la matematica alla fisica, la biologia alla chimica eccetera eccetera. Sii super consapevole dell'esistenza di queste quattro fasi perché sappi che esistono per tutti, per tutti gli studenti di qualsiasi scuola, di qualsiasi facoltà. Quando si studia qualcosa di nuovo funziona proprio così, quindi devi dare il giusto tempo ad ogni fase dell'apprendimento in modo tale da non spaventarti se non ricorderai subito questo o quel dettaglio di un argomento che magari ti ha dato più noia. È fondamentale procedere con calma e dare a te il giusto tempo per metabolizzare tutte le informazioni e sperabilmente collegarle fra loro. Crediamo fermamente in questo modello di studio, in questo modello di apprendimento ed è proprio per questo che la scuola online, le lezioni della scuola online sono strutturate in questo modo. Ogni argomento è suddiviso in sotto argomenti e alla fine di ognuno di essi c'è un quiz ad accompagnarti. Al termine della lezione troverai subito dei quiz in cui cimentarti per andare a fortificare le tue conoscenze e quindi andare a facilitare tutte le fasi dell'apprendimento. Abbiamo appena parlato di teoria e pratica, quindi voglio approfondire quale sia il ruolo di ciascuna di esse e soprattutto quale sia il loro rapporto, la loro proporzione e il modo in cui ciascuna di esse ti porterà ad avere una preparazione completa. Partiamo dalla pratica. Troppo spesso sentiamo dire di persone che si preparano al test soltanto utilizzando i quiz o le simulazioni, quindi andando a trascurare la teoria o al contrario sentiamo dire di ragazzi che non si cimentano all'interno delle simulazioni perché non hanno ancora finito di studiare quello o quest'altro argomento, un determinato capitolo di un libro oppure, se ti piace, delle video lezioni. Secondo il nostro punto di vista la cosa migliore da fare è cimentarsi fin da subito nelle simulazioni a 60 domande perché queste sono la forma ufficiale del test ministeriale. Ricordati che non devi prepararti per un'interrogazione ma ti stai preparando per un test di ammissione, quindi è fondamentale focalizzare e mettere in uso la teoria ai fini di un test. Quindi vuol dire che la teoria è in secondo piano? Assolutamente no. La teoria è importante in quanto tale, non perché applicata a delle crocette. Sia teoria che pratica ti offrono due modi di ragionare, due modi di approcciare allo stesso argomento. Anzi, ti dirò di più, per come la vedo io, fare dei quiz anche particolarmente difficili o stimolanti, come mi piace dire, ti permettono di avere degli spunti o comunque ti permettono di focalizzare quali sono le parti più importanti che dovrai ripetere e sapere bene una volta che tornerai sulla teoria. Un mio ulteriore consiglio è quello di segnare, per esempio, su un taccuino, su un foglio di carta, sulle tue note, sul cellulare, tutti gli errori che fai, sia nei quiz post micro argomento, sia nei quiz all'interno delle simulazioni. E una volta che avrai creato una piccola lista di argomenti da ripetere, li andrai a rivedere per bene, in maniera tale che appunto avrai messo a frutto i quiz, soprattutto nelle parti in cui hai fallito, perché questo che, diciamo, è questo che conta, ovvero costantemente migliorare e avere una conoscenza a tutto tondo. Ti consiglio di aumentare la frequenza delle simulazioni man mano che procederai nel tuo percorso di preparazione, quindi devono essere presenti fin da subito, e questo lo ribadisco, devi prendere subito confidenza con la forma del test. Però ovviamente la frequenza con cui svolgerai le simulazioni deve man mano aumentare fino ai giorni del test, in cui si può immaginare che potrai farne una, due, tre al giorno se riesci, però in generale focalizzare la tua attenzione sulle simulazioni. Mentre è ragionevole pensare che nei primi momenti, nei primi mesi della tua preparazione darai più importanza alla teoria, ma devono essere sempre entrambi presenti come elementi all'interno del tuo percorso di studi. Quindi attenzione a programmare, proprio a livello pratico, a livello temporale, i momenti dedicati alla teoria e all'apprendimento, e i momenti dedicati all'applicazione delle tue conoscenze, sempre entrambi presenti. Passiamo ora al prossimo argomento, davvero importante. È meglio studiare ogni materia un po' per volta, oppure studiare il programma di una materia per intero o passare alla prossima? Ti faccio un esempio. È meglio studiare un pochino di biologia, il giorno dopo un pochino di chimica, poi tornare alla biologia e così via tutti i giorni, per una settimana intera, oppure studiare interamente, per esempio un mese, ti dico così, a titolo esemplificativo, tutta quanta la chimica, poi passare alla matematica, poi passare alla biologia, eccetera, eccetera. Il nostro consiglio, il mio consiglio, è proprio quello di studiare una materia alla volta, perché ogni materia possiede una cosiddetta propedeuticità intrinseca, un termine, un'espressione molto difficile per una cosa molto semplice. Ti faccio un esempio. All'interno della chimica, se vuoi capire davvero bene la chimica organica, devi prima aver capito molto bene i legami chimici e le forze di interazione molecolare. Quindi è bene che tu segua un percorso intrinseco naturale all'interno delle singole materie. Però è anche importante, diciamo, sfruttare quella che è la propedeuticità estrinseca delle varie materie. Anche adesso andiamo a semplificare. Semplicemente, una volta che avrai studiato tutto il programma di biologia e tutto il programma di chimica, potrai tornare a rileggere anche più velocemente il programma di biologia. E ti faccio ancora un altro esempio. Se hai studiato molto bene la chimica organica, ritornando a un primissimo argomento della biologia, ovvero le biomolecole, capirai molto molto meglio e quindi sarai ancora più padrone. Quindi ti invito a rileggere. Anche la rilettura è una forma di approfondimento. Ovviamente vale sempre il discorso della priorità temporale ai due tasti dolenti. Quindi parti sempre dalle materie che ti danno più noia. Volevo specificare che questo discorso che ho appena fatto vale soprattutto per biologia, chimica, matematica e fisica. Perché per la logica, diciamo, il discorso si fa un pelino più complesso. Questo perché, nonostante crediamo fermamente che lo studio della teoria per quanto riguarda la logica sia fondamentale. E lo crediamo davvero, perché all'interno della scuola online sono presenti tante lezioni sulla logica. Crediamo anche che le esercitazioni, le simulazioni, i quiz di logica siano molto importanti affinché tu la possa imparare al meglio. Quindi per quanto riguarda la logica ti direi di dare pari peso, pari importanza sia teoria che pratica. Infatti è proprio grazie alla pratica che potrai entrare all'interno di quei meccanismi mentali che costituiscono la logica stessa e che poi è alla base della teoria che ci piace insegnare. Inoltre, un ultimo punto che, diciamo, vorrei sottolineare, che ti vorrei specificare, è quello delle simulazioni, proprio perché tu non abbandonerai mai davvero una materia del tutto. Cioè, anche se stai studiando, per esempio, il programma di chimica e, mettiamo caso, sempre simbolicamente, ci impieghi un mese, all'interno di quel mese comunque avrai svolto delle simulazioni che ti avranno permesso di toccare con mano anche gli argomenti delle altre materie. Quindi, di fatti, di fatto non andrai mai a abbandonare gli argomenti anche delle altre materie del test. L'ultimo punto da affrontare è quello della motivazione. Perché parliamo di motivazione? Perché per ogni nuovo inizio e soprattutto all'inizio di un nuovo percorso di studi è facile farsi trasportare dall'emotività, dall'emozione, comunque dall'entusiasmo e spendersi al 100%, per quello che si sta facendo. Però, a lungo termine, potresti notare dei cali di attenzione, dei cali di motivazione o, semplicemente, potresti rendere di meno. Voglio rassicurarti, questo è fisiologico, succede a tutti, ma proprio a tutti. E questo succede soprattutto quando si fanno dei programmi di studio, appunto, a più ampio respiro, proprio in luce della perseveranza che ti viene richiesta per affrontare uno studio di tale portata. Ed è proprio qui che entra in gioco la routine. Mi spiego meglio. Devi entrare nell'ottica di idee che questo tipo di organizzazione dello studio e della tua vita in generale rappresenti la quotidianità. Non è qualcosa di straordinario, per cui spendersi al 100% in un determinato momento della propria vita. Studiare in questo modo e in generale dedicarsi ai propri obiettivi in modo costante ogni giorno ti permetterà di essere una persona soddisfatta e soprattutto di raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda sempre i tuoi obiettivi. Ovviamente, senza scadere nella filosofia spicciola, ti consiglio caldamente di non trascurare i tuoi hobby, le tue amicizie e la tua vita sociale in generale. Questo perché il tuo percorso di studi non è uno sprint, ma una maratona. Questo vuol dire, semplicemente, che devi utilizzare in modo efficiente, ma soprattutto intelligente, le tue risorse, che sono essenzialmente le tue energie. Uno studio che, diciamo, è fatto poi di privazioni per quanto riguarda il tuo benessere, non è uno studio condotto con intelligenza. Quindi ti consigliamo di bilanciare lo studio, la tua vita sociale, i tuoi hobby, in maniera tale appunto da essere semplicemente una persona felice. Bene, questo era proprio tutto quello che volevo raccontarti su come impostare un buon percorso di preparazione che sia davvero efficace e spero che tutti i punti che ho trattato possano esserti stati d'aiuto. Grazie.